Buongiorno e benvenuti alla farmacia delle semine. Io mi chiamo Alberto e sono qui con la mia collega Emiliana e siamo farmacisti collaboratori. La nostra farmacia si trova a Bellinzona, nel quartiere delle semine, in una zona ben servita con mezzi pubblici e dispone di diversi posteggi. Negli ultimi anni la farmacia ha introdotto diverse prestazioni che la mia collega può spiegarvi nel dettaglio. Tra le prestazioni più comuni che una farmacia può offrire, offriamo una consulenza omiopatica e di polimedicazione, oltre che la presa a carico di piccoli disturbi tramite il servizio NetCare. In aggiunta, quest'anno abbiamo introdotto il test alla ferritina e al depistaggio delle allergie comuni. Ma non solo, effettuiamo anche iniezioni e vaccinazioni e tutto quello che riguarda anche il depistaggio del cancro del colon. In caso di medicazioni o di necessità di primo soccorso, non esitate a chiedere il nostro aiuto. Il team della farmacia delle semine è a vostra disposizione e accoglierà tutte le vostre richieste col sorriso. Grazie, arrivederci.